Qual è la squadra di Livor? La squadra di Livor non lo so, neanche in momenti così. Guardo noi e gli ho fatto ancora i complimenti alle partite che hanno fatto, però non è sempre un'equazione giusta che più giochi bene o fai tante cose e vinci. Però ognuno ha il suo modo di credere e di fare il suo calcio. A me la squadra piace, bisogna cercare di migliorare, però fino a che punto sono difetti bisogna vedere, magari è un momento così, però non è sempre tutto così scritto e abbiamo queste cose qui e ce le portiamo avanti. Noi dobbiamo migliorare e migliorare, essere magari un po' più cattivi, siamo arrivati tante volte, magari anche tante situazioni che ho rivisto, la partita di Trevoti ci è passata vicina. Non voglio parlare di fortuna e sfortuna, però si è che è così. Grazie a tutti.